Musica 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 Cosa che mi interessa di più di tutto, credo che più è lo sviluppo che abbiamo all'interno del gruppo e lo sviluppo che abbiamo all'interno del nostro gioco e a livello della mentalità e della cultura che c'è in spoletoio queste sono le cose che ci occupiamo adesso giornalmente i risultati diciamo che è sempre la conseguenza di come lavori però adesso nelle amichevoli non è l'obiettivo numero uno Beh, diciamo che per le prossime due partite si vuole leggermente alzare la sticella domani ci sarà l'amichevole a Biasca contro il Clotta in sabato per la prima volta si proverà invece la pista della Corner Arena che è chiaramente contro Davos Sì, in Germania abbiamo avuto due ottime amichevoli contro due ottime squadre la prima contro l'Ingo Stalterano addirittura i vice campioni di Germania quindi sicuramente era già un test di alto livello per noi è chiaro che adesso diventa un po' più uno specchio della realtà dove giochi contro due squadre del nostro campionato due squadre che incontreremo anche più tardi e quindi ci darà già delle prime risposte di dove siamo e a che punto siamo nel nostro sviluppo Rispetto allo scorso anno si è proprio visto già dalla prima amichevole un approccio più che altro mentale completamente differente Sì, dopo è difficile generalizzare l'anno scorso era l'anno scorso adesso non mi piace più guardare il passato da lì abbiamo cercato di imparare il più possibile e sono molto soddisfatto dell'attitudine che c'è sul ghiaccio ogni giorno in allenamento fino adesso non abbiamo ancora avuto un brutto giorno di allenamento e quindi questa è la cosa positiva Sicuramente l'ambiente familiare alla fine conoscevo già più o meno tutti sono molto contento di essere ritornato a casa Quanto ti ha lasciato questa esperienza in Nord America? Sicuro tanto sia a livello atletico che personale penso sono stati tre lunghi anni che ho molto sfruttato in tutti i punti di vista con la mia famiglia in cui ero là in Canada con i miei compagni sul ghiaccio tutto Come è stato questo ritorno qui a Lugano ma soprattutto l'approccio con il coach Gianni Nazzi che comunque già conoscevi? Ma sì, come hai detto tu lo conoscevo già quindi è stato un pochino più facile rientrare nel sistema penso che sono molto contento appunto di avere un coach che conosco già, che ho già un bel feeling quindi delle buone sensazioni per la stagione Due sensazioni dopo queste prime tre amichevoli poi è chiaro, come abbiamo parlato col coach i risultati contano fino a un certo punto però dalle prossime due amichevoli il livello degli avversari si alzerà Esatto, esatto comunque anche in Germania abbiamo affrontato degli avversari di alto livello però sì, come ha detto il coach adesso le squadre saranno nel nostro campionato quindi dovremo alzare ancora di più la sticella e vedere dove siamo Sì, esatto, come hai detto te l'anno scorso è stata una stagione incredibile è stato molto bello insomma avere un anno così importante ma questo qua sappiamo che è ancora più importante e ho lavorato duro quest'estate adesso abbiamo ancora un po' di amichevoli e speriamo di continuare a far bene e avere tanto spazio di ghiaccio Beh, una nazionale italiana che comunque sta crescendo di livello abbiamo visto lo scorso testo posto i mondiali di division B chiaro, per te il sogno e l'obiettivo devono essere i prossimi giochi olimpici di Milano e Cortina 2026 Sì, beh, ovviamente spero di partecipare alle Olimpiadi ce la metterò tutta sto lavorando bene con il mio club anche con la nazionale ho fatto il mondiale l'anno scorso il mio primo mondiale in senior è andato abbastanza bene e speriamo di continuare a andare anche lì in nazionale e far bene Come sono state le sensazioni di questo inizio stagione? Chiaro, la preparazione è iniziata da un po' da questo mese siete sul ghiaccio comunque abbiamo visto delle amichevoli abbiamo visto comunque degli ottimi riscontri Sì, molto positivi è appunto la prima un po' in realtà è la mia prima e seconda preparazione però con Gianna è la prima e ci stiamo spingendo molto stiamo lavorando duro è abbastanza tosta ma è giusto così e adesso abbiamo ancora delle amichevoli speriamo di far bene e speriamo di giocare a giocare tanto anche e poi si vedrà